Signore, signore, dalle più grandi circoli mondiali e internazionali, Montecarlo, Mosca, Berlina, Santa Trignana, le più grandi circoli centri di tutto il mondo, un applauso signore, signore fratelli, Turbax, Turbax Fronar! Che pro... problemi che tecnici! Hey! 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 Hiato! 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 Vai! Hiato! 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 Vai Gato... Vai Gato! Vai Gato! Vai Gato! Vai Gato! Gato! Gado! Sperimenti, che questa porta suba! Ah! 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 Scusate! Eh! Eh! Vi adoro mai! Sione, sione! Cario Kitt! Grazie! 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 Grazie!